li segreti de nonna quando ero ragazzina mi nonna me portava sempre in cucina e mentre se copriva corsinale me faceva via qua oggi ad imparare a fare le fettuccine è il segreto è de fare le fine se poi c'era da friggere cervelle di carciofi mi faceva è il segreto sta nella pastella ad essere croccante come la ciambella non parliamo poi della pagliata facioli, trippa li segreti me l'ha svelati tutti puro quello della vita di fatti mi ha detto ah ricordate hai da connella sempre con l'amore perché gli è dar giusto sapore auguri a tutti dal teatrino delle 6 di Spoleto è tutto per Tef Channel Martina Tiberi non solo sport arrivederci grazie a tutti 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 Grazie.